Sono le 12.50 del 15 novembre 2023, mi trovo a Montelabrone e qui sotto c'è Trasacco. Cosa dire di Trasacco? È uno dei più bei borghi d'Italia. Guardate che bel panorama. È abbastanza esteso e riprimento alla popolazione. Non c'è l'ammassamento delle case. Guardate, poi, sì, ci siamo nel tipione del Cucino, regione Abruzzo, provincia dell'Aquila. Questo è il centro storico. I tetti ce ne stanno pochi di quelli vecchi, anche se molte case sono state restaurate. E in particolare, questa è la parte nuova di Trasacco. Guardate che spettacolo. L'occhio vuole la sua parte, non ho mai visto questo spettacolo. È la prima volta che sono salito a Salgo qui a Montelabrone. Vabbè, adesso è la prima volta, ci sarà anche la seconda volta. Avrò modo di soffermarmi, fare dei piedi più circostanziati. Ho girato la prima volta. Ah, a proposito, qui che c'è? Quarto mistero doloroso. Gesù porta l'angolo c'è al Calvario. Bene. Una bella giornata, eh. Come lo da ieri, la temperatura è abbastanza meta. Penso che adesso circa 20 gradi. Tiene leggermente il vento. Un po' neuloso. Ma oggi, secondo la pressione del tempo, no, viola. Grazie.